Dionigi, visto che con l'idiota virus non capite certe cose, adesso te le spiego io, è chiaro che non c'è dappertutto la zona rossa, ma si tratta di rispetto, solidarietà e senso civico nei confronti di persone che stanno morendo, che sono a casa in quarantena e non si possono muovere, è giusto avere un po' di riservatezza sui social invece di far vedere, proprio voi che siete tanto seguiti, come mettete le chiappe al sole in un momento così difficile. Ci vuole tanto per arrivare a un concetto del genere? Ovviamente molti VIP come la signora Dionigi non si rende conto che qua si sta bloccando tutto e fra poco anche dove sarà lei sarà zona rossa, carissima, quindi se tu te ne stessi a casa forse eviteremmo, se lo facessero tutti, che anche i posti dove non è zona rossa diventino tra una settimana zona rossa, ma evidentemente per voi un concetto così elementare è complicato da capire, ma d'altronde non mi meraviglio. Anna Marzova